Vediamo qua altra varietà di passiflora, Purple Ace, tipica la foglia, trilobata, picciolo rosso, lungo, portamento rampicante, altra varietà di passiflora probabilmente, con la foglia pentalobata in questo caso, anche se qua non è scritto se è una passiflora, ma la foglia sembra, è questi frutti strani, non so se è tipici della passiflora, che è una pianta che conosco ancora poco, altra varietà di passiflora, anche qui con foglia tri o pentalobata, portamento rampicante anche lei, assenza di fiori al momento, altra passiflora, cerulea alba, cerulea alba, anche qua foglia o penta o trilobata, fiore, no, il fiore è dell'altra varietà questo, il fiore è di quest'altra varietà, anche lì pentalobata o trilobata, altra passiflora con foglia trilobata, e qua vediamo un fiore, che dovrebbe ancora aprirsi, anche qua altra varietà di passiflora, tipica la foglia, anche lei portamento rampicante, foglia più scura, molti fiori pronti ad aprirsi, è interessante vedere la forma, di questo bocciolo, diviso in cinque, molto netto, con sepali, più o meno dello stesso colore, stesse passiflore di prima, così abbiamo un'unica carrellata, veramente il fiore più bello del mondo, non so se anche questa sia una passiflora, ma penso di no, Budapest Giardino Botanico Botanical Garden, agosto 2011, 2011.